Buon Tango Lab presenta una charla con... La leggenda dice che ancora quando il Duomo non era finito c'era Napoleone Bonaparte che veniva a fare lezione a questo indirizzo. Voleva migliorare il suo tango e non riusciva a bracciare bene per ragioni ovvie. E' stato uno dei pionieri del tango milanese a sistemarlo, il maestro Alberto Colombo.